Devo ancora riprendermi, è molto intenso. Un bel colpo nella pancia, bello però, molto bello. Molto triste, il film è terribile, il finale è tragico. Comunque è un film lento però importante da vedere. Sono un attimo costernato, nel senso che sono un po' da metabolizzare la film finale, sinceramente. Ma mi è piaciuto molto, devo dire, assolutamente. Molto bello, mi è piaciuto molto, molto violento alla fine, però bello. Un po' difficile il film. È da rielaborare, è impossibile dare un commento a tanto. Non mi è piaciuto tantissimo, anche se il tema è importantissimo e credo che sia appunto attuale e importante, però il film in sé non mi è piaciuto tanto. Beh, devo dire bello, ma un cazzotto nello stomaco, però va visto e va fatto vedere questo film, fondamentale.